Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 prestare attenzione al personale sulla strada in uscita a Valdichiana provenendo da Firenze. In FIPILI prestare attenzione agli animali sulla strada segnalati in entrata a Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda le statali sulla 12 della Betone del Brennero senso unico alternato per frana tra i chilometri 66 e 350 tra Giardinetto e Popiglio. Una frana è avvenuta anche al chilometro 59 in località Scesta, un chilometro e mezzo prima di Giardinetto in direzione sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!